Confermata per sabato 18 gennaio la Marcia per la Libertà, organizzata da Sicobas contro l'applicazione del Decreto Salvini, che a Prato ha avuto come conseguenza 22 multe agli operai della tintoria superlativa per aver bloccato il traffico sulla declassata, in occasione di un pecchetto davanti all'azienda. Attesi in città centinaia di manifestanti provenienti da tutta Italia. Li troveremo alle 4 alla stazione centrale, da lì arriveranno anche tutte le persone che raggiungeranno da fuori Prato per questa marcia e raggiungeremo poi con la marcia Piazza del Comune, è comunque un luogo simbolico ancora di più dopo le dichiarazioni del Sindaco, ci aspettiamo una partecipazione molto grande, sono già molte le adesioni, le associazioni, politica, sindacati e soprattutto molti cittadini. Ha provato i giorni scorsi in Consiglio regionale una mozione presentata da Sì Toscana a Sinistra in cui si esprimeva vicinanza ai lavoratori colpiti dal Decreto Salvini. Nessuna adesione da Prato. Sempre si può fare protesta, avere toni alti e rigorosi, ma nello stesso tempo fare le cose come prevede la legge, perché sennò diventa un'anarchia che non aiuta nessuno a partire da lavoratori stessi perché li mette in contrapposizione ad altri lavoratori. È una giornata in cui chiede un segnale alla città di Prato e che provi a cambiare il clima che si respira in questa città rispetto a quelli che sono i lavoratori che in questi mesi si stanno battendo per i loro diritti. Intanto è stata notificata una multa di 4.000 euro a un altro lavoratore della superlativa, raggiungendo così quota 22 multati, tra cui due studentesse, per un totale di 80.000 euro.